Io penso che sia opportuno che il Partito Democratico faccia qualunque sforzo per cercare di unire i vari gruppi e cercare di evitare di presentarsi l'uno contro l'altro, se questo succede possiamo parlare anche eventualmente di una mia candidatura. Apre le porte a una sua candidatura alle primarie del PD, il presidente del CNR Luigi Nicolais. L'intervento è avvenuto a margine dell'inaugurazione della sede di staccata del CNR, Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali. La possibilità detta del numero uno del CNR è quella di poter lavorare mettendo insieme i distretti tecnologici e il CNR, potenziando la ricerca in Campania. La sede avrà la sua base nel distretto ad alta tecnologia per le costruzioni sostenibili, di cui è direttore Ennio Rubino. Ascoltiamolo. Abbiamo in campo altre iniziative in Campania, altri progetti proprio col distretto che riguardano la messa in sicurezza di vaste aree urbane, il cosiddetto concetto di resilienza, vale a dire approfondire tutti i livelli di capacità di far fronte a eventi estremi. Abbiamo ancora tutta una serie di attività che vorremmo realizzare nella parte centro storico di Napoli.